Nella nota intervista in cui ha attaccato Putin, Biden si è rivolto ai tanti migranti che stanno affluendo al confine fra Messico e USA invitandoli a tornare a casa. Non venite. Non lasciate le vostre città. Se lo avesse fatto Trump sarebbe scattato il coro umanitario che sempre accusa di oltraggio ai diritti umani chi non spalanca le frontiere. Per Biden, che fu salutato come il presidente che avrebbe aperto le porte ai migranti, nessun coro ostile. Evidentemente perché è dem. Due pesi e due misure. Nel regno della faziosità non conta ciò che si dice. Conta chi lo dice e da che parte sta. Un cortocircuito peggiore. Per i guardiani del pensiero unico. È stato causato dalla cancelliera tedesca Merkel. La quale ha dichiarato che è favorevole a usare tutti i vaccini approvati e per quanto riguarda quello russo. Sputnik se non si faranno ordini a livello europeo. La Germania si muoverà da sola. È una dichiarazione clamorosa. Anche perché consente a ogni paese di fare da sé con i vaccini. Ma una coltre di imbarazzo l'ha sepolta. Perché? Il giornalista collettivo finora ha bollato come sovranista. Anti-UE e anti-occidentale chi osava dire che se la UE non si muove si deve fare da soli. Anche ricorrendo a Sputnik. Punto. Per esempio. Matteo Salvini. Il primo marzo. Dichiarava. Se i vaccini non arrivano dall'Europa è giusto che l'Italia si muova per conto su altrimenti non ne usciamo più. Su Sputnik aveva aggiunto. L'obiettivo è mettere in sicurezza i cittadini. Se funziona ed è usato in molti paesi. Per esempio l'Ungheria che è in UE. Perché no? Vaccino antidemocratico le reazioni erano state le solite. Il radicale Marco Taradas. Sulla Fington Post. Prendendosela con Salvini e la Meloni. Aveva scritto che. Per capire come si organizza. La spinta. Verso la. Democrazia e liberale. Bastava seguire il vaccino Sputnik. Non c'è nessuna onestà in chi lo reclama. Lo pretende. Sbeffeggia le regole. Mette a disposizione le nostre aziende per produrlo. Sputnik V è di per sé un programma politico. È il preludio di un'alleanza contro l'Unione Europea e la democrazia liberale. Dunque. Per certi europeisti. Sputnik è un siluro per abbattere la UE e la democrazia. Ecco perché la Merkel ha creato fra loro enorme imbarazzo. Chi può accusare lei canselliera di essere contro l'Unione Europea e la democrazia liberale? Ma il botto è arrivato venerdì sera. Quando. Nella sua conferenza stampa. Il nostro premier Draghi si è detto totalmente d'accordo con lei su Sputnik e la UE. Se il coordinamento europeo non funziona bisogna essere pronti a fare da soli. Questo ha detto la Merkel e questo ripeto ancio. Io. Sì. Io l'altro. Io. 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 Grazie a tutti.